Radio Radicale, siamo col Presidente e i deputati Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, per parlare della campagna elettorale. Allora, mi sembra che il centrodestra, dopo qualche polemica, dopo la manifestazione antinciuscio, sia riuscita a organizzare una manifestazione unitaria e la Meloni ha ottenuto un'altra autorizzazione per un'altra manifestazione a Piazza Vittorio, manifestazione che si teme molto. Allora, che valutazione può fare di questo quadro insieme a tutti gli episodi di violenza politica? Dunque, per quello che riguarda la manifestazione unitaria con cui il centrodestra concluderà la campagna elettorale, penso che sia una bellissima notizia, perché dà credibilità alla proposta di governo del centrodestra stesso. Ed è, dal punto di vista di Fratelli d'Italia, una bellissima notizia anche perché l'appello a Berlusconi e a Salvini, che hanno risposto questa volta positivamente, è stato accolto e quindi penso che questa ultima parte della campagna elettorale possa essere utile a rilanciare l'azione di governo che dal 5 marzo in poi prenderà forma. La manifestazione di Piazza Vittorio deve essere eletta per il significato più profondo ed autentico che ha. Intanto Piazza Vittorio è casa nostra, insomma siamo di casa, è uno dei rioni storici da cui è partito il progetto della destra moderna, della destra italiana, direi che ha fatto da laboratorio, da incubatore, dei futuri progetti, prima di alleanza nazionale poi di Fratelli d'Italia e quindi per noi è una manifestazione ordinaria, non c'è niente di straordinario, se qualcun altro si affaccerà nei paraggi sarà più che altro lui l'ospite. Noi semplicemente facciamo una campagna, una manifestazione, un evento lì all'Esquilino per agganciare le nostre proposte programmatiche sulla sicurezza, sulla giustizia, sull'immigrazione a degli episodi di cronaca purtroppo bestiali e terribili che si sono verificati proprio in quel rione e il fatto di voler essere presenti lì è anche per far capire che il territorio nazionale è fuori controllo, non è soltanto un problema della periferia perché spesso quasi ci si libera la coscienza dicendo che alcuni episodi, come se la periferia contasse meno dei quartieri alti, si verificano nelle aree di bordo delle grandi città. Noi siamo ubicati a Piazza Vittorio, cioè a 100 metri dalla stazione Termini e a 500 metri da Palazzo Chigi. Gli episodi che si sono verificati testimoniano che neanche nelle aree sensibili rappresentate del centro storico di Roma c'è sicurezza, quindi noi non partecipiamo alla polemica sulle manifestazioni nostalgiche o a quelle antifasciste perché siamo figli del nostro tempo, non c'è fortunatamente per tutti un pericolo fascista alle porte e guarda caso questo pericolo anche quando non c'è viene sollevato con tanto di manifestazioni violente da parte dei soliti di facinorosi che non so per quale ragione comunque ci ci ossigna a non chiamare per quello che sono, sono manifestazioni comuniste, gli ultracomunisti fanno spesso incidenti con la polizia, con le forze dell'ordine per paradossalmente difendere la democrazia, c'è qualcosa che non funziona perché se aggredisci le forze dell'ordine non mi pare che sei molto democratico, quindi non è possibile che a ogni campagna elettorale a 15 giorni dal voto, a 10 giorni dal voto si riaffacci lo spettro del fascismo, penso che sia fin troppo facile immaginare la ragione per la quale si cominci a riparlare di cose che sono scadute nel 1945, c'è un interesse che è un interesse elettorale e se questo interesse si sviluppa e manifesta anche con episodi di violenza come quelli accaduti, probabilmente è perché c'è un derby a sinistra tra chi debba catturare questo tipo di voto che comunque non sta nel dibattito politico e sociale delle famiglie italiane che vogliono invece che si parli di tasse, di lavoro, di disoccupazione, di immigrazione, di sicurezza, di periferie, di lotta alla povertà, di famiglia, di natalità, di rapporto con l'Europa, questi sono gli argomenti di cui ci si dovrebbe occupare a 7 giorni dal voto, qualcuno invece pensa che si debba parlare di altro. Ultima domanda, lei pensa che l'Europa sia allo sbando dopo il caso Ema, è emersa anche un'ennesima figuraccia del Presidente della Commissione Europea Juncker sull'operatività del nostro Governo, può fare una valutazione su questo, è preoccupato? Guardi, purtroppo non riesco a essere preoccupato perché non riesco a immaginare un'Europa fatta a immagine e somiglianza dei popoli e delle famiglie europee che dovrebbero essere il centro delle preoccupazioni e delle attività principali delle Commissioni Europee e quindi anche di Juncker che le coordina. Non riesco a essere preoccupato perché non c'è traccia di questo impegno, di questa capacità di assorbimento dei bisogni e delle esigenze dei popoli e delle famiglie europee, mi pare che rimanga ancora in vita una sorta di disconnessione congenita da parte degli eurocrati e un disimpegno rispetto alla necessità stringente, dirompente di dover fare qualcosa di importante e di serio per garantire crescita, sviluppo, lavoro e magari anche un tentativo di gestire le cose importanti che pure esistono e quindi bisogna confrontarsi con esse come la robotizzazione, la digitalizzazione che espellono dal tessuto produttivo tanti lavoratori e magari talvolta questo fenomeno accade perché è l'Europa che lo finanzia, quindi è abbastanza paradossale, assurdo, singolare che l'Europa invece di finanziare le possibili cadute positive di questo processo andando a investire su un risarcimento per ciò che si perde in termini sociali, acceleri i processi di robotizzazione e quindi metta i lavoratori nella strada, c'è qualcosa che non funziona. Mi pare che l'Europa delle dichiarazioni di Juncker sia perfettamente in sintonia con l'Europa che finanzia la robotizzazione invece di finanziare il recupero dei posti di lavoro causati dalla robotizzazione. Bene, ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il capogruppo di Fratelli d'Italia Montecitorio Fabio Rampelli.